Per essere così stanco È rimasto sveglio tutta la notte a guardare la luna Romantico il ragazzo Sì, proprio un romantico Romantico, ma pesante Ehi ragazzi, ma voi non siete i Roteo? Sì, ci conosci? Vi ho visto girare e saltare a dirle Siete fantastici Ma perché siete sbariti? Purtroppo non sappiamo fare più niente No, non è possibile Dovete assolutamente tornare ad esibirvi Solo voi, con le vostre nuote e i vostri movimenti Potete salvarci dal malediccio di quella stregaccia Quale malediccio? Ma la polvere verde Per colpa di quella polvere la gente sta impazzendo Impazzendo? Sì, tutti gridano, si arrabbiano e sbattono i pugni sui tavoli Sui tavoli? Sì, e se non ci sono i tavoli, sui muri E se non ci sono i muri, sulle persone Sono tutti impazziti Pensate che a Beretta non si mangia più la babbellata Ma i cavoli I cavoli a Beretta E a colazione nel latte caldo inzuppato le belanzade Le belanzade La situazione è grave, dobbiamo fare qualcosa Raggiungere subito le roteo Ma tu perché sei insensibile alla polvere? Ho capito, grazie Ho capito, grazie